Le tre opere esposte sono tutte opere che raffigurano il martirio della legione Tebea. Sono tutte state realizzate nel 1500 e la prima che vedete si trova a Milano nel monastero di San Maurizio ed è stata dipinta da Bernardino Luini. San Maurizio era il comandante della legione Tebea ed è il protagonista di tutti i quadri che ne raffigurano il martirio. In primo piano Maurizio sta per essere decapitato mentre dietro si vedono i soldati che stanno per subire la stessa sorte. La seconda opera si intitola I diecimila martiri di Pontormo e in primo piano viene rappresentato l'imperatore Massimiano che dà ordine dell'esecuzione. Interessante che la sua figura viene ripresa da un'opera molto famosa di Michelangelo che è la scultura che ritrae Giuliano de' Medici. Tutto attorno si vedono i cristiani che vengono martirizzati. L'ultima opera è di un artista greco nazionalizzato spagnolo, El Greco. Notiamo la rappresentazione delle figure tipiche di El Greco, cioè allungate e non fedeli al vero e con colori particolarmente accesi. Anche qua in primo piano troviamo i santi principali che vengono martirizzati dietro il martirio dei soldati, ma nella parte alta i santi sono già saliti in cielo e vengono accolti dagli angeli che gli danno gli attributi del martirio, appunto la palma e la corona. Grazie a tutti.